all'inizio della sua carriera fernand legge pittore francese vissuto tra otto e novecento sviluppò una visione basata sul suo amore per la scena urbana moderna industriale affascinato dalla bellezza delle macchine dal 1930 però l'artista cominciò a interessarsi anche alle persone dipingendo molte opere ispirate ai passatempi della gente comune attività come il ciclismo il nuoto il picnic la musica e il circo vennero viste da legge come simboli tangibili della libertà umana il circo in particolare fu per l'artista il più importante di questi temi e l'opera che vedete qui ne è una prova il dipinto raffigura un acrobata il cui corpo è attorcigliato in una pose naturale che sembra riprodurre una capriola in aria mentre tiene in mano un fiore giallo nella parte di sinistra della composizione c'è una donna dai lunghi capelli biondi che indossa una gonna bianca a pieghe e una camicetta viola senza maniche raffigurata mentre regge una scala entrambe le figure puntano rigidamente lo sguardo verso di noi sullo sfondo della composizione dietro l'acrobata che sta facendo la capriola vediamo un bersaglio circolare di forma irregolare composto da larghe fasce concentriche colorate di rosso blu giallo verde bianco sotto l'acrobata un gatto grigio su una sedia sta guardando incuriosito verso l'alto legge fu affascinato dalle compagnie circensi fin da bambino quando le vide passare nella sua città natale nel nord della francia l'acrobata il circo il tendone sono temi che vennero eseguiti in tutta la sua carriera artistica nel dopoguerra il circo simboleggiò uno spazio egualitario molti artisti di idee progressiste comuniste tra cui pablo picasso e marc chagall lo consideravano un ambiente in cui la cultura la musica e le arti dello spettacolo potessero essere apprezzate da un pubblico ampio in un saggio del 1924 legge stesso descrisse il suo interesse per il circo quando entro in questo mondo sorprendente con i suoi baglianti riflettori e il piccolo acrobata che rischia la vita misera io sono rapito sono preso dalla strana architettura della tenda dai pali colorati dalle aste metalliche e dalle corde che si intersecano tra loro ondeggiando questo dipinto riflette quindi due temi centrali per legge negli ultimi dieci anni di vita le figure umane in movimento e le attività del tempo libero inoltre l'acrobata e la sua compagna sono eroi del lavoro e rappresentano per l'artista tutto il dinamismo della vita moderna se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando e anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte